La scuola riaprirà dal 1 settembre per il recupero. Dal 14 prenderanno il via le lezioni. Lo ha ribadito oggi il Ministero dell'Istruzione, ricordando che dal 24 agosto parte l'Help Desk per gli istituti. Si tratta di un servizio dedicato interamente alla ripresa, a cui le scuole potranno rivolgersi in caso di dubbi e quesiti. Sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. La ripresa delle lezioni in presenza e in sicurezza continua ad essere la priorità anche dei sindacati, che però nutrono molti dubbi sui tempi davvero strettissimi per l'adeguamento degli spazi e la preparazione del personale. Nella nostra regione ogni territorio, ogni scuola ha il suo lasso di tempo, però siamo convinti che la scuola deve ripartire in presenza. Il problema è che bisogna giungere in presenza perché la scuola riparte. Noi vogliamo che parta in presenza, dentro le classi, con gli alunni, con i docenti, col personale e tutto. Sono stati stanziati dei soldi per la nostra regione per aumentare il personale, sia esso amministrativo, tecnico e ausiliario, sia esso che i docenti. Però a oggi, oggi non possiamo saperlo, lunedì non sappiamo quanto personale viene dato alle scuole. Le scuole non sanno che personale avranno, sia esso col prodotto scolastico, amministrativo, in più. Si parla di personale Covid, anche questo è un'assurdità, però personale Covid. In questi giorni i lavoratori della scuola del Friuli Venezia Giulia stanno anche attendendo istruzioni per i test sierologico al quale potranno sottoporsi. Mi è arrivato il messaggio di una nostra iscritta, ha fatto il giro del distretto, del medico curante, della scuola, ma non sanno nulla, non sanno nulla. Allora, qua serve delle risposte chiare, serve un coordinamento chiaro, serve, dobbiamo dare una risposta alle persone e in questo modo non la stiamo dando. Non può andare la persona dal distretto, il distretto gli dice no, si rivolga, gli manda un'email, si rivolga al proprio medico, il proprio medico non sa. Bisogna avere delle risposte chiare, certe e immediate. La scuola è dietro l'angolo, riapre, ma deve partire in sicurezza del personale sia anche degli alunni.